Continua a tenere banco la questione legata al Marco Tomaselli. Il campo, oramai pronto alla consegna per lo svolgimento delle attività sportive, attraversa uno spinoso problema legato alle segnature del campo da gioco, per far coincidere le attività di calcio e del rugby. Ieri, in una nota recapitata al sindaco, il presidente della Federazione Italiana Rugby Innocenti ha scritto il suo disappunto per la vicenda delle segnature del campo, che vanno effettuate secondo capitolato. L'intarsio delle linee del polivalente rettangolo di gioco rugby-calcio non è stato eseguito secondo ciò che è previsto nel capitolato e che rischia di evolvere in maniera estremamente negativa. E se l'adeguamento dei lavori non dovesse avvenire in tempi brevi, la Federazione Italiana Rugby sarà costretta a percorrere vie meno amichevoli. In tal senso ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone, che ha seguito i lavori del Tomaselli. Ho chiesto all'ufficio tecnico di approfondire la questione, anche se, devo dire, non credo che debba essere centrata solo ed esclusivamente sugli aspetti del capitolato tecnico, ma si tratta di attività sportiva e quindi credo che sia importante anche valutare quello che dicono i regolamenti per le omologazioni appunto degli impianti stessi. Io dico che lo stadio è della città e quindi deve essere tutta la città che ne deve beneficiare. Il rugby, il calcio, l'atletica leggera, sia quella agonistica sia quella amatoriale che si svolgeva e si risvolgerà nuovamente all'interno dello stadio devono essere attentamente valutate e attenzionate da questa amministrazione ed è chiaro che l'omologazione del manto erboso deve passare dai regolamenti, i regolamenti che fanno le federazioni e vengono approvati dal CONI. Io sono certo che leggendo proprio quei regolamenti si può trovare una soluzione al problema e comunque ribadisco sempre il fatto che la nostra amministrazione sindaco in testa siamo sempre stati e saremo sempre disponibili a dialogare con le due federazioni per trovare una soluzione che deve venire però dall'ambiente sportivo, quindi dalle federazioni e dal CONI, per trovare una soluzione anche magari sperimentale per risolvere definitivamente questo problema che credo che non sia soltanto dello stadio di Caltanissetta ma che interessi un po' le altre città dove ci sono impianti tipo polivalente dove si svolgono attività sportive di diverso genere.